Amici, proseguiamo. Goso Tsushima. Posso... Oh, che bello. Posso. Viamo. Sì. No. Ok. No, sono passati anni, dai. Mi rendo conto che fermare i video durante le missioni non è l'idea migliore del mondo, però... Vabbè, per non fare i video da 30 avori. Come salto. Ok. Tu sei migliato la cosa alla... Alla Star Wars con Obi-Wan che fa e lo da... Ok. Ok. No, merda! Eh, diciamo che non somiare con un controller, quindi... Faccio un attimo quella pratica di troppo, ecco, quindi... Soprattutto con uno strumento di così tanta precisione come l'arco. Ok. Aia! Ma Ruppe, forza me dovevi venire a prendere. Ok. Eh, te lo sei militato, stai, non so. Dai. Molto bene. Aia! Ok. Ottimo. Ok. Benissimo. Che culo. Io prendo tanti, tanti schiaffi in sto gioco, veramente tanti. Quello trovo qui, ecco. La colpe è mia. Ok. Era contemplato che cadessi. E' buona. La colpe è mia. Devo... Devo ancora prendere mano con il combattista. Ok. 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 Molto bene. Curiamoci. No. No. Ok. 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 Come assunto. Eh no. Questo? Niente. Io devo imparare si lanciano i punai. Perchè? Non lo so fare. Non lo so assolutamente fare. Trova... Riuzzo. Amico. Ah ok. Ha fatto gen... ha fatto piazza pulita qui. Ho trovato il cibo. Ma aspetta che il Jinn sta prendendo schiaffi. Quindi... Dio va di aspettare un attimo prima di continuare a morire. Allora qua. Ok. Aia. Oh capito. Ok. Ok. Allora. 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 Gr carro. Non l'acqua. Come. È subito. Ma aspetta che ierssuivano. Non si non lo sopra. Si non lo sopra. Dalla il nave che si volete. Non lo sopra. Mi rimane per via il l'inforzamento. E' quello che si trovi in era più grande. Non lo sopra questo. Non lo sopra. Ma come si tratta. Si tratta. si vedeva questo si vede con questo casino si vede tutto bene black lootati i capelli di paglia molto buono allora vediamo il nostro diario io direi che onestamente i racconti di kenji magari li facciamo dopo il completamento lo so io proprio voglio fare questo voglio scoprirne di più quindi 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 ovvero canaltanum ha fai attenzione to me ti facciamo voglio un po' a piedi ma se io utilizzassi il sto bene madonna se non vorrei essere grazie stavaltro ma cazzo se mi prendo uscito da un ristorante di sushi qual è l'armatura classica di jean l'armatura classica di jean serve proprio quella rotta ma mettiamo questo dai armatura dell'eroe di sushi e se faccia come credo parte del della director scatto se la possono avere chiunque si lo è no grazie ok ok ah ok è il suo dogma perfetto non so legno sono non so che sono il suo dogno è il suo dogma è Ti piace? Ok Ho fatto un attimo di silenzio con le espressioni stane perché sto cercando di mandare giù Una gomma da masticare in realtà che non dovrei mandare giù Però sono stupido Ciao La madonna Non c'è un senso e l'olio Perchè? Come, come? In il ruo di paura, la morta è stata da fare, ma probabilmente l'arga di Tomoe m'è. Ma che è stato l'arga di Valente? Chi è un lato che ha fatto? Cosa un'amore? Voi un'amore di non lo so? Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non mi sembrava di essere un aiutato. Perchè chi lo ha fatto fatto? Ho fatto tutto il sogno, ma non mi ha fatto fatto anche le due. Non è stato difficile. Ma che l'ho fatto in una città, non? Questo è quello che ha fatto con Tomoe. Non è mai stato l'ora. Che cosa cosa c'è? C'è qualcosa di quello che c'è? Jin spera ancora di poterla riunire, cioè di poterla ruolare. Povero Jin, illuso. Prima di dire qualcosa, dai, non fate fare a me il lavoro del commentatore, no, devo intrattenere io per forza. Eh, amici, non so bene cosa dire, io spero che mi stiate sentendo. Uh, uh, bambù. Me lo prendo. Dovemo scalare? Dov'è? Eh, io me la cavo, però. Ok. Ho delle domande. No, no, no. No, 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 no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tanta metri? Tanta roba, eh, per carità, però un po'... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cazzo. Ok. Ok. Aspetta, prima di parlare con lui voglio vedere... Ah, lui comunque arriva con calma, a parte che tu devi morire. Va lì. Quindi lo sapevi? Non c'è un po' di guerra. In questo modo, la testa sarà ancora più forte. E' un po' di giro di Tomoe. Parole due. Parole due per uno veramente strano. Allora, dove è Tomoe? Perciò. Perciò. Metto così che sono più centrato la TV. Qui c'è un po' di giro. 10 o... più di più. Sì. Non è che vorrebbero mettere il colo di nuovo. E' meglio aspettare un tipo di ante. Se non lo so, non lo so. 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 E' meglio, ma preferirei non doverlo fare da solo. C'ha capito? Mi appena il culo. Non gli è chiaro. Cioè, vedi che sto faticando e stiamo solo accolpendo? Cazzo, figurati se... Non avrà affrontato a 12. E' finita per Jin. Brutta roba. Cosa. 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 Un stealth. Sì. Sì, si. Lisciava. Ok. 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 a me il vento ah tanto lì lo brutizza la forma del vento è praticamente ficato oh lancerash spezza lancer buono c'è chi si ha abruto Grazie a tutti 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 Andiamo a fare il racconto di Nasako e il vento dice di qua Grazie a tutti Andiamo Chiedo scusa Ma la botta di sonno ogni tanto ci può stare ci può stare ci può stare ah devo scalare va bene lo faccio volentieri ok ok si 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 va bene ma si va bene ma di raggiungere questo posto a cavallo ah no Per quanto riguarda il cuore e il cuore, voglio cuore un po' di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua. Io non avevo sbloccato la scivata, credo che aveva letto da quasi tutte le altezze, però non me l'avevo ancora fatta, almeno falla, poi fammi prendere danno, però almeno falla, non dico tanto, minimo. Dovrei comprare uno di quei microfoni e lo metto di qui, non costano un botto, perché con quel tipo di microfoni posso spostarmi ovunque, più fuori sentita sempre, però a volte magari sai dire troppo, perché la mia bocca fa molto spesso pesi. suonai io qua Niente, mi hanno ucciso. Allora, venite all'aparto, perché... Allora, venite all'acqua. Allora, venite all'acqua. Controlla le stalle. Mai un recluttamento facile, comunque. Che vuol dire secco. Il fujito? Ah, di qua. Ok. Sì, ma... Vabbè, le gin. Eh, qui prendo una brutta piega, Leon. Ah, ok, sempre di qua. Eh, sa la signorina che stiamo cercando. Uh. Oh. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.